Una bella vittoria perché comunque si affrontavano due squadre da fondo classifica e soprattutto che giocavano sempre con rotazioni ridottissime. L'avete costruita con una vittoria sotto un canestro perché alla fine avete dominato. Abbiamo dominato finalmente perché eravamo decisamente più grandi, più grossi. Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio ma alla fine ce l'abbiamo fatta, era giusto vincere per noi e non è finita, ne abbiamo ancora più da vincere per soddisfarci. Non è stata una partita facile perché siete partiti bene e avete preso dei punti di vantaggio, poi loro vi hanno recuperato con un sacco di punti in contropiede, siete stati lucidi nell'ultimo quarto a subire tanti falli e penso anche molto precisi dalla lunetta. Non troppo precisi dalla lunetta in realtà, vorremmo esserlo più precisi, però abbiamo dimostrato anche carattere perché è già la seconda volta che riusciamo a tenere una partita così e questo è molto importante soprattutto quando ci si presenta in 6, 7, 8 come quest'anno accade spesso per noi, è molto importante dimostrare carattere. L'hai detto bene, avete dimostrato carattere stasera, sarà importante poi per finire bene la stagione. Assolutamente, la cosa più importante è finire bene e lo vediamo l'ora della prossima partita. Grazie.